Borgotaro ci ha preso gusto ad ospitare i grandi fumettisti e allora questo giovedì sarà la volta di Moreno Burattini che sarà intervistato e presentato da Massimo Beccarelli. Da Lupo Alberto a Zagor, una vita, la sua l'insegna davvero del fumetto. Burattini è lo storico sceneggiatore della casa editrice Bonelli che sarà a Borgotaro, come vi dicevo, questo giovedì alle ore 17 con ingresso libero. E ora andiamo in quelle di Berceto, dove giovedì scorso nella sala consiglio comunale l'amministrazione ha organizzato la presentazione alla cittadinanza della carta del potenziale archeologico del comune. Abbiamo intervistato uno dei relatori dell'incontro, Filippo Olari. Quali sono i luoghi più interessanti del territorio bercetese da un punto di vista archeologico? Quali potrebbero essere potenzialmente? Sicuramente il territorio di Berceto è un territorio molto ricco di siti archeologici. Le percorrenze di Crinale, così come i grandi assi viari antichi, come la via Francigena e le precedenti vie. Nella redazione della carta archeologica che abbiamo curato assieme alla dottoressa Catarsi, che è funzionario di zona della sovrintendenza ai beni archeologici, i risultati sono stati superiori alle aspettative. Era già stato fatto qualcosa ed è stato integrato con nuove acquisizioni molto importanti, parte del patrimonio che si conosceva già. L'obiettivo di questa carta archeologica era quello di fornire al comune uno strumento di programmazione e anche di tutela del patrimonio sepolto. Può dare qualche esempio di qualche luogo, di qualche ritrovamento, di che genere, a che periodo risale, a che epoca, a che civiltà? Abbiamo individuato nuovi siti preistorici, in particolare alcuni siti mesolitici e anche alcuni siti del Medioevo molto importanti, alcuni castelli e anche alcuni edifici fortificati. Quindi il territorio bergetese nell'antichità era stato abitato ed era anche allora luogo di passaggio forse? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che allora più di ora le vie di percorso naturali e la via Francigene prima ancora, la strada romana e anche le vie percorse nell'età del ferro erano molto importanti. Queste testimonianze sono state ricostruite in parte con il ritrovamento di aree archeologiche tramite survey, in parte tramite molti scavi della sovrintendenza, soprattutto sul crinale tra Parma e Baganza, e anche grazie alle fonti edite, fonti antiche che soprattutto dal periodo medievale parlano molto di Bercetto e del suo territorio. Ecco, un'ultima domanda, per quanto riguarda il centro abitato? Per quanto riguarda il centro abitato siamo riusciti a recuperare molti dati grazie alle segnalazioni orali e grazie anche ad un'attenta osservazione sia dei documenti storici come foto d'archivio e anche grazie ad alcune ricognizioni. Bercetto come capoluogo è una delle zone più ricche di testimonianze e per questo andrà tutelato ma può essere anche un grande potenziale per il futuro. Portate gli occhiali e non sapete come truccarti, avete così come si suol dire il panico da trucco, niente paura perché potete prenotare la vostra lezione e imparare a farvi bella davvero in poche mosse e così il venerdì sarete già pronte per uscire. Due lezioni di autotrucco con Susanna Panizzi, make-up artist a Borgotaro presso Biblioteca Manara. La prenotazione è obbligatoria, massimo 4 persone a lezione, il costo complessivo delle due lezioni da 2 ore ciascuna è di 30 euro per informazioni 0525 96796. Le lezioni inizieranno dall'ultima settimana di maggio. Mercoledì prossimo 28 maggio Gardaland, il parco divertimenti numero 1 in Italia, vi attende grazie al viaggio che organizza l'Anspi San Rocco di Borgotaro. Si parte alle 7 dalle piazzale di San Rocco, la quota sociale integrativa è di 37 euro e comprende viaggio più entrata al parco e il ritorno è previsto alle 22. Per informazioni 339 75 92 917. Pagina sportiva dedicata al basket, c'è da segnalare una bella e importante novità per Borgotaro perché la Valtarese 2000 è stata chiamata ad organizzare le finali regionali under 14 femminile proprio a Borgotaro. È una notizia bella ed importante quella giunta pochi giorni fa dalla federazione italiana Pallacanestro di Bologna. Il massimo organismo di pallacanestro regionale ha infatti assegnato alla Valtarese 2000 di basket l'organizzazione delle finali regionali under 14 per la categoria femminile. L'appuntamento è per sabato 31 maggio e domenica 1 giugno al Palasport Bruno Raschi dove le migliori 4 formazioni regionali si sfideranno per aggiudicarsi l'ambito titolo regionale. Per la Valtarese la soddisfazione è doppia in quanto oltre ad essere la società organizzatrice sarà anche protagonista sul campo con la propria formazione. Le ragazze guidate dal coach all'odi proveranno a conquistare il titolo regionale contro Ferrara, Zola, Predosa e una tra Rimini o Bologna. Il calendario delle semifinali sarà definito solo ad inizio della prossima settimana quando si saprà quale sarà l'ultima formazione qualificata tra appunto Rimini e Bologna. Nelle mentre è in programma per sabato mattina alle 11 presso la sala consigliare del comune di Borgotaro patrocinante dell'evento la conferenza stampa di presentazione. Per tutti gli sportivi della Valtaro un appuntamento assolutamente da non perdere anche per far sentire da vicino il proprio calore alle giovani bianco-blu impegnate in questo importante appuntamento. Il meteo per domani 21 maggio mercoledì, sereno poco nuvoloso, al pomeriggio possibilità di locali piovaschi, le temperature minime stazionarie o in lieve locale aumento intorno ai 12-14 gradi, massimi in aumento con valori compresi tra 20 e 24 gradi, 20 saranno deboli. Vi lascio con la programmazione serale, cominciamo intorno alle 20.45 con Festival, alle 21.30 il documentario Atlas e poi il nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito, buon proseguimento di serata, torniamo domani, arrivederci. Grazie a tutti.